Siamo qui con Bruno Brunhofer, proprietario e fondatore di Hans in Gluck. Quali trovate particolari di questo prezzo Archimede? Trovate il prezzo interessante e perché? Ovviamente è molto interessante. Una ragazza è che conosco Leo Colovino e Dario Di Dovoli per molti anni. Abbiamo incontrato, abbiamo incontrato, abbiamo incontrato, abbiamo incontrato in diversi eventi. E, per esempio, abbiamo avuto in 2012, il gioco Marco Polo. L'ultimo 4 anni, ma dopo 4 anni abbiamo pubblicato. È un grande successo. È un grande successo. È un gioco da qui, da Simone e da Daniele. Da questa volta abbiamo lavorato insieme e così via. Ci sono molte ragioni di due anni per arrivare a Venezia. E per arrivare a Venezia è sempre una buona cosa. E per essere parte di questo evento. È una situazione particolare che potete trovare in questo prezzo Archimede, in essere un membro del giurio finale? Potete trovare qualcosa che non trovi in altre situazioni come questa? in altre occasioni? Io sono un gioco. Questo è il solo evento di questo tipo. e quindi non posso comparare. Perché io sono solo un gioco qui. E questo è sempre molto divertente. Perché, come vedete, questo è un gioco. E questo è un gioco. È un gioco. che è un gioco. È un gioco. E così. Ma come ho detto, non posso comparare con altri eventi in questo modo. Perché sono solo in questo evento. Il gioco. E, secondo la tua esperienza, per concludere la nostra intervista, potete dare un pochino reccomendazione a quelli autori di prototipi che hanno chiamato questo gioco Archimede ogni paio di anni? È un gioco, un consiglio, una riccomendazione, che vorrei dare? Anche semplicemente, ma solo per aiutare o per aiutare un pochino queste nuove autori. Sì. Io vedo i gioco. E, come dice, il sviluppo dei gioco, alcune fassioni. In questo anno e ora sono più in questo tipo di gioco. In questo tipo di gioco vediamo, dopo 4 anni, qualche altro gioco. ok, ma è sempre la stessa. In questo modo, dovrebbero farlo in un certo modo, in questo modo. In questo modo, in questo modo, in questo modo, in questo modo, che sono qui. Quindi, l'unica cosa è che dovrebbero fare le migliori idee e dovrebbero offrire in un modo chiaro e dovrebbero dirlo ai spiegatori, che possono fare molto bene funzionare. Quindi, non ho... Quindi, essere chiaro è la riccomendazione più importante. quindi, immaginare che qualcuno che non conosceva il tuo gioco deve provare e l'apprendere. Quindi, essere chiaro e dare direzione. Grazie a Bruno Brunhofer, fondatore e proprietario di una delle più importanti pubblicazioni in la industria del gioco. Grazie e spero che possiamo lavorare insieme per molti anni. Grazie. Grazie, Bruno. Grazie.